Musica Musica Un'origine che è inserita nella nostra città Insieme a un gruppo di volontari Da tanti anni Ed è da Romagna in generale Che hanno creduto fortemente Nel rischio, Nel New York E quindi anche la nostra città La nostra comunità Volevo dare un segnale importante La presenza del professor Tino Valdori Boncioli Per noi è un valore davvero molto importante Grazie a tutti 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 Quindi sono tutti qui per te Per ascoltare E soprattutto Conoscere questo Autobiografico Con una bellissima autobiografia Dall'attacco Se vorrei ricordare Che tu sei il Presidente del Instituto Conoscere Bonomagno Direttore scientifico e medico dell'IRSTAT E queste due strutture Credo che Ti possono ritenere Il loro papà Io non li faccio Perché insomma Sei un po' Il pit maglione Di quello che è tutta La ricerca E tutta la costituzione Dietro la ricerca E questo secondo me È stata una delle concessioni Più belle E più innovative Che potrebbe avere Una persona Una sola E ce l'abbiamo qua da parte Il capo Ben arrivato Professore Dino Amadori Il segnore Quindi questa sera Saranno Il tema centrale della serata Diceva prima Grazie Che sono presenti Anche i referenti Della Della Cesese C'è anche un sbattomio Migliani Tra molti altri I volontari Sono presenti E col libro Della professore Che qui ha L'autodestedizione Un libro che vorrei Sottolineare subito Il ricavato Viene tutto Destinato A New York Quindi il professore Come sempre Non si sventisce Così non Passiamo la parola Allora professore Allora Grazie 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 Per tutto Io Conosco voi In particolare Una persona Che vuole molto bene E mai nella natura Buongiorno 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 70% Sperimentale Quindi Se non fai ricerca Sperimenti Se non sperimenti Non dimentichiamo Per questa ragione E' fondato Rio Nel 1279 Quando la riforma Mario Che in tersalità Prevedeva per gli ospedali Solo compliti di assistenza e cura Escludendole totalmente Dalla ricerca clinica Personalmente pensai Che quella sarebbe stata La fine Della qualità Esistenziale Terapetica Negli anni 30 anni E reagivi In che modo? Cercando di avere Uno strumento Che permettessimo Di avere su tutta la Romagna I mediti Le risorse Per poter fare ricerca Questo strumento Insieme a un padronnato Lo abbiamo chiamato IOR Istituto Ecologico Romagnolo Non fuorilese Noi L'area rasta L'ha dettata 40 anni fa Anche Grazie All'esempio Che danno i volontari dello IOR Che spento per parte Del loro tecnico Che è un capitale Che abbiamo Che nessuno ci aumenta Magicalo tutti i giorni Eppure Le date un pezzo A qualcun altro Questi sono esempi Che dovrebbero far capire a tutti Che nella sanità Bisogna rispondere A dei bisogni E quindi Fondando Lo IOR Il educato Lombardo Per avere queste possibilità Che ne hanno Il tituto Colotico Romagnolo Una cooperativa E la lotta Se Lo IOR E' nato Per un capitico fortissimo Fare un certo All'estate Della mia Ha creato la struttura Per fare questa ricerca Al più alto Di livello italiano Di europeo E lo IOR Ha mantenuto Tutta la sua forza Il popolo In questo senso Il popolo Lo IOR È un popolo Il popolo Il va fatto E anche La Chiederezza Sembra che ha Quello La crescita Questo popolo Ha fatto la crescita Incredibile Dal punto di vista Della cultura sanitaria E dal punto di vista Soprattutto Della solidarietà Per cui Il prognamento Il prognamento Il prognamento Con grande rispetto Con grandissimo rispetto E la colonna portante sono di volontaria senza di loro ho di loro e questo accaduto mandasse una persona che è morta poco tempo fa pochissimo la grazia di Sotaroli che ha fondato il volontariato di Oro che ha superato 5 tumori di me soprattutto anche una grande responsabilità quella della solidarità e della beneficenza sempre volontari non si potrebbe accogliere i fondi che vengono raccolti e non si potrebbe fare ulteriori ricerche avere ulteriori fondi quindi diciamolo pure l'Oro è veramente fortemente legato non solo alla sua grande professionalità ma anche a quell'Oro che veramente donano parte del loro tempo come dicevole prima so che sottolineerei anche questo vorrei dare una definizione del volontariato che non può essere concepito come un subrogato di qualcosa il volontariato non è quello che deve fare l'iniezione perché manca l'interviera sarebbe un disastro se il volontario deve solo fare cose che competono a professionalità diverse sarebbe alla furta del mente il volontario porta dentro qualcos'altro dentro il sistema porta il valore della solidarietà lo cito sempre quando ha detto un giorno che questa società è a un male gravissimo una malattia molto grave che è indifferenza che se tu togli dalla vita umana l'interrelazione con gli altri sei un uomo perché non hai vita vera che la vita è relazione quindi il volontario che porta dentro questa civiltà malata una la terapia che se di differenza è una malattia quali sono i sintomi? quel che viene tutti i giorni il disinteresse la competizione il conflitto corretta invece qual è la cura di questa malattia? è il contrario della solidarietà quindi il volontario è colui che col suo esempio solidaristico guarisce questa società non è mica poco noi abbiamo la fortuna in un'impermane realtà ma noi ora abbiamo la fortuna delle più di tutti questo è il bello del nostro istituto e quindi è il bello di questa organizzazione di cui ripeto il il concetto di solidarietà è concretizzato lo vediamo nella faccia dei nostri volontari e di questo l'azienda si accorge che per esempio in istituto abbiamo i volontari che accorgono perciò i pazienti quando escono dicono sì che per il suo però la cosa più bella che per le tutte quando siamo arrivati dite uno da preso da questo come mi chiamo dove deve far andare e ti accompagno quindi capite l'importanza di questo tipo di ruolo assolutamente è importantissimo il ruolo del volontario perché il tumore il tumore maligno è una delle malattie più credo complesse che l'uomo deve affrontare ma soprattutto lei ci dà una grande speranza perché sono a vapore il tumore per essere affrontato a chi lo affronta proprio serve l'anima e il coraggio questo è il vero senso che esprime il suo titolo giusto? il coraggio nasce cioè così lo stia se si affronta qualcuno o qualcosa di più grande di te è un gigante che è il campo il campo è un gigante è un gigante perché oggi in Italia ci sono 3 milioni e mezzo di persone che hanno attraversato questa esperienza ci sono 377 mila nuovi casi ogni anno ci sono 160 mila morti ogni anno se non è un gigante questo vorrei vedere qual è per fortuna si sta invertendo la situazione se negli anni 70 quando io ho cominciato a fare concorso su 100 casi che diagnostichevamo oggi fra 5 anni ne troveremo ancora solo 40 oggi su 100 casi fra 5 anni ne troveremo circa 80 quindi questo vuol dire che se non li pariamo tutti arriveremo ancora pochi ne facciamo vivere lungo tutti la mortalità sta leggermente diminuendo purtroppo l'incidenza cioè i nuovi casi non non cadono non cadono perché non c'è un buon progetto di prevenzione primaria in questo paese questo l'unico ha deciso che vuol fare questo lavoro e lo vuol fare bene e vi posso annunciare che in aprile inaugureremo a San Cristoforo la casa della prevenzione è una scuola di circa 934 quasi più delmeno lo iort ristruttura ah già ha fatto i bandi ci sono già venite che lavorano la rena idonea a fare alcune cose come si fa farete una cucina didattica per insegnare quali cibi e come cuocerli per prevenire il cancro faremo una palestra dove insegniamo quali sono gli esercizi fisici importanti come si deve e quanto tempo si deve dedicare al giorno per fare di vita fisica preventiva faremo un'attività di tipo psicologico con una quella che è dicata la mindfulness creando le condizioni per una meditazione approfondita su se stessi faremo della musicoterapia faremo dello yoga quindi vedete quante cose tutte mirate a prevenire per quanto rimatte le persone sane e a star unendo per quanto rimane i malati che fanno terapia quindi prevenzione prevenzione alla fine ci siamo noi quindi questo gigante l'africa web poi il gigante spingiamo anche dal tuo punto di vista clinico il cancro è la più complicata è la più complicata che l'umanità vi ha mai avuto mai un'anima il cancro al contrario le altre malattie che conosceranno uccide per il decesso e non per il dipetotolano se io ho un infarto si chiude un'arteria il mio cuore si restringe se io ho un tumore nel polmone il mio polmone cresce vedete primo secondo le altre malattie hanno tutte una causa e non la definita io hanno una causa un virus un'arteria il fatto che avevo una causa era chiusura un'arteria il cancro non sapevo ancora quante cause un'infinità di cause esterne e interne a noi e c'è un gioco perverso tra l'ambiente lo stile di vita e il nostro genoma e questa interazione continua prima o poi crea delle mutazioni nei nostri geni che una dopo l'altra portano a tutte per fortuna non una porta al tumore una dopo l'altra hanno 5 stelle e durante il tempo anche ritornano indietro con quella che viene chiamata la chemio prevenzione con le beta che sono farmaci la cardospirina la spiruletta è documentatamente un farmaco che previene il dolore del corpo ci sono altri prodotti di questo tipo che lavorano come prevenzione dopo che il processo si è avviato tra le vetre quindi un gigante dal punto di vista clinico un gigante dal punto di vista psicologico parlare con un paziente effetto da cancro non devo parlare con un paziente ortopedico che abbraccia l'osca devi intanto appena lo incontri devi dire buongiorno signore e guardarlo negli occhi ma nel computer e si accomodi come fosse casa tua non metti qui e poi ascolti lo sapete qual è il tempo medio di ascolto di un medico che dice un paziente nel suo procatorio provate a dire quanti? no 5 minuti no voi? voi? quanto tempo lo ascolta se vi interroga no eh? 18 secondi uno apre l'occa comincia comincia a parlare diciamo aspetti è così è così è compiuto un errore clinico perché il 70% della diagnosi si fa con l'anamere con l'ascolto di quello che dice il paziente anche se gli sembra che dica delle caratteri perché quello che dice il paziente è sacro lo sente lui dice lui se non lo scopri non te lo dice se non te lo dice spari la diagnosi quindi e poi questo per quanto riguarda la proposta poi la conduzione del paziente bisogna che un medico che vuole fare il suo lavoro nel momento in cui il suo paziente si siede davanti a lui nessuno dice una cosa io faccio così guardi lei che lì davanti al medico è come se io fossi in cima lei invece perché io non sono un giudice che giudica che dà una sentenza su quello che è vero io sono uno che l'accompagna nel percorso che seguirà a questo tipo di problematica e allora se si fa così se ripeto si guarda negli occhi e non il medico si mette a smanotare il computer io il computer non lo so usare ma non l'ho mai voluto usare e non ce l'ho perché poi i pazienti si lamentano il fatto che il medico ne guarda neanche gli occhi allora fa l'empatia si chiamano qui se ti metti un alleato che vive la stessa esperienza del paziente e allora riesce a chiedere la risposta a quello che la verità è la diciamo ma è la diciamo secondo me per dirlo si convenire una cosa se te lo vengono si faccio un evento arrivo a guardarmi e io mi dico come fanno in America altri amministratori il campo di formore sei mesi di vita organizza la nostra vita perché non ci sarei testurati se invece tu gli dici guardi c'è un problema ci sono come c'è le risperate è una complagia però si ricordi che ci sono i mezzi per curare e di sì c'è la dignità la stessa dignità di prima se queste terapie funzionano avremo questo risultato se non funziona la prima che le diamo c'è una seconda non sono bugie è vero allora è tutto un altro mondo perché il paziente che sa che correrà ma non ha la sentenza in tasca anche perché sono sparigliate nel 80% di caso poi il paziente non ti fa le stesse domande durante tutto il percorso della sua malattia all'inizio ti chiede se può venire quando comincia a vivere i momenti invece della malattia che come dice non ti chiede più se potrà guarire potrò vivere di più è già diverso potrò vedere il matrimonio di mia figlia che si può da fare tre mesi se si può se il Gesù ci si e quando è più alla fine non ti chiede più niente queste cose ti chiede mi fai a riesce a farmi dormire stamattina potrò bene eh riesce a venire questo dolore posso respirare meglio capite? quindi è tutta verità che si viene comunicata va bene si viene detta e sbagliata questo è il mio punto di vista grazie ho un'inzione il cui realismo oggi è sostenuto dai costanti progressi ottenuti nella prevenzione dell'insorgenza dei tumori e dell'efficacia sempre maggiore della diagresi precoce e del tumore Sì, qui veniamo all'argomento più scortante, no? La prima domanda che sento spesso è allora, entro quando avremo scoppi di spacco? No, per questo è... Allora, non c'è una risposta. C'è un'approssimazione. Allora, faccio un esempio. Nell'uomo paleontologico c'erano già i tumori. Paolo, quindi, prima dei 250.000 di Alfa. Nel 500 a.C. Ippocrate, il padre della medicina, Grecia, siamo arrivati, e Ippocrate fa la sua prima teoria sul campo. Il campo dipende dell'eccesso del corpo umano della pire nera. Quindi, la cura è far vomitare il paziente, mandarli in diarrea, farli dei salassi per portargli a questa pire nera. Solo nel 1800 qualcosa, fino a grazie al microscopio, comincia a capire che il cancro nasce nella cellula. sono passati, vogliamo dire, 300.000 anni, dal primo tumore risultato nell'uomo ad oggi, senza nessun progresso nella lotta con i tumori. Nessun progresso. le prime terapie efficaci nel cancro risalvano nel 1950. Quindi, metodo di istante, un'altra, 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 un'altra e poi tre, quattro anni, si fa la cifra, metodo di istante, anni 50-55. Per avere un papo nuovo, quei tempi, passavano dai due, tre anni. Oggi, oggi, non si contano neanche più quanti sono i farmaci. E fra un farmaco vecchio, un farmaco nuovo, per quel tumore, non basta mai più di sei mesi. Allora, ho detto che, io non lo so, quando il tumore sarà sconfitto, però io dico che se, in poco, in 60-70 anni, si è passati da quei 40 che sopravvivivano a 5 anni, a 80 di adesso, se la sopravvivenza fa sì che, è talmente lunga, spesso che si accumulano questi casi, siamo solo 3 milioni e mezzo oggi. Se tumori di minore impatto numerico, ma di importanza medica, guariscono come i linfomini, le leucemie, sempre più intorno al testicolo, io mi immagino che nei prossimi 80 anni, insomma, gli abbiamo dato una bella scopola al carico. E se così non fosse, vuol dire che siamo veramente poco intelligenti. Se in così poco tempo è stato fatto un progresso enorme, sicuramente, alla fine di questo secolo, i bordi di campo saranno tutti i miei membri di questa zona adesso, anzi, molto, molto potenti. Mi è molto impegnato anche in Africa e, anzi, e sortiamo anche il pubblico presente a informarsi su quello che voi state facendo di importante in Africa. Io ricordo una conferenza stacco dove lei ci fece innamorare tutto del suo progetto, che continua, sempre molto, in maniera molto delicata, molto insordina, però il professore è anche su questo fronte, perché oltre ad essere un ricercatore è sul fronte dell'assistenza, è sul fronte della sicurezza. E poi guarda anche agli altri, non solo chi magari, forse, si può avere e può uccidere uno York o uno Irsta, perché ce l'ha qui in donna. Beh, questo è un capitolo per me più caro, perché, allora, siccome non ha due niente da fare, non ha niente da fare, però facciamo qualcosa di più di quello che aveva fatto fino ad ora. E pochi anni prima, nel 1995, era morto un mio caro amico, che era uno di coloro che nel luglio del 1979 venne con me a condare Pio, ed era il patologo, prima di faenza, polizia esegue, lui è morto di una nonna, di cui si era nato a 18 anni, aveva avuto due o tre recidive, l'ultima, purtroppo, è stata fatale. Lui aveva cominciato a fare in Africa del volontariato, era andato nella zona dei laghi, dal lato Vittoria, in un paese vicino, dove abbiamo operato noi, e aveva, quando ha fatto un ambiente per dare alle donne africane la possibilità di patogire in un ambiente igienico. Vuole Vittorio, vuole, e vuole purtroppo nel mio reparto, perché è un bel autore. E aveva un bellissimo album di fotografie, che sfogliavo tutti i giorni, in mia presenza. E quando ci ha lasciato, io avevo ben capito quello che voleva dire, questo sfogliare l'album, davanti a me e a chi lo seguiva. e decisi di continuare la sua opera. E cosa feci? Fondai un'associazione, che si chiama Vittorio Piso, si chiama come lui, con il sottotitolo Cultura e Solidarietà. Perché la cultura è fondamentale, la solidarietà la può dare anche più incontro per il persone, anzi, però se la va, la persona complica è ancora meglio, perché la può riepire i contenuti più alti, più complicati. E allora, avendo fatto questo tipo di decisione, riuscì a raccogliere i fondi sufficienti per realizzare nell'ospedale Ugano di Muanza, città, oggi c'è un milione di habitanti all'ora di poche centinaia di migliaia, un laboratorio dell'atomia patologica, che questo ispedale non aveva, questo laboratorio si chiama Vittorio Piso, e finalmente, gli esami biopatici, che prima avevano spediti altronde per fare gli altri, hanno cominciato a farli direttamente lì. Nel 2002 vado a vedere lo stato di avanzamento dei lavori di questo laboratorio, e vi documento, perché ho fatto il Dio dell'ospedale, dove in qualunque le parte che andassi, c'era dei lati il tumore, che nessuno sapeva che era un tumore. Il tumore era sconosciuto, venne tanti sanno, tanti diciamo. È vero che, quando parlai con il direttore generale dell'ospedale, il dottor Magini, bravissima persona, nell'ospedale che aveva gestito dal governo, e da commissione di percorso sangue, e c'era un vescovo eccezionale, il monsignor Balina, un mero, eccezionale, il direttore generale è, e il vescovo eccezionale, grazie a loro, lo so che si è fatto quello che voi hai fatto. Vedete, guardate che qui ce la fa più. Cosa facciamo a fare le diagnosi, se poi i malati nessuno riceve? Per lui, mi feci trovare un altro, un collega, che fosse disposto a vivere in Italia, e si è finito, allora in oncologia, con la lista, per prepararsi e diventare un corpo. Cosa ce ne facciamo delle diagnosi? Trovai questo medico, è stato dopo i cinque anni, si è preso la specialità in oncologia, da solo, senza raccomandazioni, è tornato là, e si è preso l'impegno, di dirigere una unità operativa, di oncologia america, e in oncologia america, e in tanzania, non c'era nessun oncologo. e il professore si può fare. Grazie. Per me, per contribuire per i giorni, io lo ringrazio profondamente, perché in tanti anni, lei riesce ancora, con tanta grande passione, a fare questo processo. Grazie, professore Amatori, grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Sono che, davvero, fanno un lavoro fortunato, sono quelli che, sono a disposizione della nostra comunità, da licea, e che, volontariamente, mettono a disposizione per il loro tempo. Per il tempo, mi diceva, che per tutti noi, è a tempo. nel senso che, è una cosa veramente, che possiamo mettere soltanto in una nostra spesa, e quindi questo, è davvero, un valore, un valore. Vi doverete davvero, un grande applauso. Grazie.